Ciao a tutti popolo del tupo, benvenuti in questo video che è una succosa anteprima ma soprattutto è un battesimo ragazzi perché vi dico con orgoglio, sapete che io sono uno che deve sempre fare di più, sempre fare di più non mi addormento sugli allori e ho fondato la Robby Mello 81 Modding ragazzi quindi oggi voglio dare il via alla Robby Mello 81 Modding inizio col dire che io non sono un modder, sto imparando piano piano per il momento metto solo le idee e dietro di me ho delle persone che mi aiutano che sanno già fare queste cose, io per il momento mi limito a dare le idee ma anche io un pochino sto imparando, la Robby Mello 81 Modding non vuole competere con nessuno non vuole far vedere che è più bravo di altri o meno bravo di altri voglio soltanto dare qualcosa alla community, quello che posso dare, quello che so dare, quello che so fare bello, brutto, tanto o poco, ve lo do ragazzi e la prima mod che farò uscire, che ho già inviato alla Giants e quindi presto vi ritroverete sul modab ufficiale è una reskin dello Stara, come nella realtà appunto Landini ragazzi abbiamo, come vedete non l'abbiamo solo reskinnato ma abbiamo messo anche il simboletto della Landini ce n'era già uno in giro ma era col simboletto della Stara eccetera eccetera e invece noi abbiamo fatto proprio la serie Legend guardate anche l'interno, sul volante abbiamo messo il cosino del Landini cab suspension, c'è tutto quanto ragazzi quindi è un trattore pienamente funzionante purtroppo sarà solo per PC perché? voi lo sapete che io penso sempre alle console e avevo pensato e avevo già pronta una versione per console era la Lizard Legend eccolo qua ragazzi, non vi sto a dibischerate adesso ve lo porto anche in gioco era il Lizard Legend eccolo qua, ne volevo far uscire una versione per console e una per PC purtroppo la Giants non me l'ha accettata ha detto il Lizard, non te lo possiamo accettare perché è una reskin dello Stara quindi a quanto pare su console non si possono mettere reskin dei mezzi ufficiali Lizard speriamo che mi accetteranno le prossime mod perché comunque stiamo lavorando non vi aspettate niente di eclatante sono tutte piccolezze, noi iniziamo così in sordina in maniera piccola poi magari in futuro faremo cose più grandi ma per il momento questo è quindi ragazzi appena uscirà la mod ve la ritroverete sul ModHub ufficiale ovviamente vi avviserò anche io sul canale questo video era per dirvi che nasce la Robymel81 Modding condividete, condividete, condividete al prossimo video, ciao!